buongiorno a tutti allora eccoci come ogni domenica per il nostro consueto appuntamento per vedere le energie della settimana che inizia con domani lunedì e che finisce con domenica prossima se sentite rumori molesti è mio figlio di là che gioca domenica anche per lui quindi insomma va bene spero che non sentiate troppo casino oggi abbiamo tre mazzi completamente nuovi questo lo sto studiando questi sono appena arrivati sono stati un regalo da una mia cara amica insomma e niente vediamo vediamo un po come va come consiglio della settimana ho i cristalli il mazzo dei cristalli che adoro quindi io direi che bando alle ciance e ciancio alle bande vi faccio scegliere tranquillamente in tutta serenità nella maniera spero per voi più intuitivamente possibile qual è il mazzo che più vi attrae per il gruppo 1 abbiamo un mazzo piccolino ma cicciottino per il gruppo 2 abbiamo questo incredibile mazzo con una forma anche se vogliamo inusuale per il gruppo 3 abbiamo questo mazzo che è di Lenormand ve lo devo dire insomma non sono tarocchi classici sono Lenormand va bene vi lascio ancora qualche secondo per scegliere qual è il mazzo che più intuitivamente vi attrae potete ascoltare anche una due o tutte tre le stese semplicemente vuol dire che c'è più di un messaggio per voi se vi attira più di un mazzo ovviamente sono stese generali lo dico sempre io dirò una serie di cose sarà difficile che si applicherà esattamente tutto per tutti cercate di trattenere quello che sentite che risuona per voi bon ho i charms anche qua di fianco quindi non vi preoccupate che sarà una lettura completa vado a spostare il mazzo del gruppo 3 e il mazzo del gruppo 2 di questo qui ho fatto un video unboxing ve lo lascio magari a fine video e buone lavoriamo con il gruppo 1 gruppo 1 se avete scelto questo bellissimo mazzo qui andiamo a vedere le energie della settimana allora vediamo energie della settimana gruppo 1 energie della settimana gruppo 1 energie della settimana gruppo 1 ok ce le abbiamo allora energie di domani e dopodomani wow allora la papessa abbiamo la papessa quindi sono due giorni dove in realtà non ci sarà grandissima azione esteriore quanto un grandissimo viaggio interiore beh mi piace tantissimo il riferimento alla sfera perché quando uno fa divinazione comunque con la sfera di cristallo che fa tanto strega degli anni passati ma in realtà è perché cerca di scoprire qualcosa di più di nascosto di non palese quindi c'è proprio questo tipo di lavoro che farete su di voi tra domani e dopodomani un lavoro introspettivo grandissimo alcuni di voi faranno proprio un esame di coscienza c'è proprio anche si fermeranno si sederanno a tavolino metteranno per iscritto proprio tutta una serie di cose proprio anche per chiarirsi e capire quali sono le prossime mosse da fare per raggiungere i propri obiettivi quindi quali sono anche i vostri talenti da tirare fuori per raggiungere questi obiettivi quindi insomma c'è proprio questo tipo di questo grandissimo lavoro introspettivo alcuni di voi sentiranno anche proprio il bisogno di fare questo lavoro e anche il bisogno probabilmente di risolvere determinate questioni determinate dinamiche vostre interiori molto interessante vediamo le energie di mercoledì e giovedì ok invece qui è fantastico perché abbiamo appunto quel fantomatico momento dove in realtà metterete in atto se avete scritto quali sono i punti non muovere il braccio scusate ok l'ho fissato un po' meglio vediamo se riusciamo ad andare avanti senza muovere tutto dicevo ovviamente dopo aver scritto cosa volete cambiare o cosa volete tirare fuori di voi stessi per raggiungere i propri obiettivi qua c'è proprio l'applicazione di queste regole che vi siete scritti di questo prospetto che vi siete scritto il tre di bastone è proprio appunto la barca che prende il largo ma sopra ci sono tutte le vostre azioni e tutte le vostre mire tutti i vostri scopi quindi grandissima energia qui sì c'è l'azione qua c'è l'introspezione ma da mercoledì sarete super attivi e ci sarà una grandissima azione perché metterete proprio in pratica tutto quello che avete scoperto imparato segnato tirato fuori eccetera eccetera quindi mercoledì e giovedì sono due giorni molto attivi se dovete fare delle cose delle azioni importanti per quello che è la vostra vita mercoledì e giovedì sono due buoni giorni perché c'è una bellissima energia di intraprendenza e quindi molto bene va bene vediamo come conclude la settimana questo gruppo 1 abbiamo quest'asso di coppe meraviglioso niente qua c'è proprio una rinascita per alcuni di voi sarà proprio vado in una spa e mi ristabilisco dal punto di vista fisico emotivo e mentale per alcuni di voi potrebbe essere che proprio questo agire mercoledì e giovedì da venerdì in realtà c'è un ritorno emozionale delle vostre azioni concretizzato proprio in un nuovo inizio un nuovo inizio una nuova rinascita una nuova connessione può essere inizio rinascita connessione spirituale ma può essere anche inizio rinascita connessione di nuovi lavori nuovi percorsi anche nuove persone nuove amicizie nuove relazioni insomma tutto ciò che però vi può far stare bene quindi c'è proprio una bellissima settimana per questo gruppo 1 perché c'è proprio un percorso cioè penso cosa devo fare metto in atto quelli che sono i miei esami di coscienza i miei tasti dove so che devo migliorare dove so che devo tirare fuori qualcosa metto in pratica quello che mi sono detto quindi vado avanti per la mia strada cercando di conquistare il più possibile e qua c'è il sacro graal del vittorioso quindi bellissimo poi una fine molto anche se vogliamo bella dal punto di vista emozionale quindi che dire ottima settimana per questo gruppo 1 vediamo il consiglio della settimana quindi consiglio della settimana per il gruppo 1 consiglio della settimana per il gruppo 1 consiglio della settimana questa mi piace va bene abbiamo l'ametista l'ametista che peraltro è la pietra della papessa quindi ci sta tutta calma e stimola la tua mente il tuo corpo e la tua anima allora vabbè questa è proprio la pietra dello scoprire nuove cose di noi stessi infatti ripeto è connessa con la papessa è la pietra spirituale per eccellenza quindi c'è anche una connessione se vogliamo spirituale che ritroviamo anche qua comunque e niente che dirvi questa pietra andrà a stimolare secondo me proprio anche i livelli del vostro inconscio del vostro subconscio molto interessanti forse neanche me ne accorgerete ma questa roba qua che farete tutte le azioni che attiverete questa settimana mi devo spostare perché continuo a muovermi tutte le azioni che attiverete questa settimana che andranno a gonfie vele perché qua la vela è gonfia saranno attivate proprio da questa energia che è un'energia bellissima perché è un'energia di cui non siamo completamente consci e quindi a volte succedono delle magie e non ci rendiamo neanche conto come poi per carità se riusciamo a renderci conto meglio ancora perché riusciamo a capire ovviamente e a comprendere perché sono successe determinate cose bellissima settimana magica per questo gruppo 1 va bene gruppo 1 vediamo i vostri charts allora come andrà la settimana energie della settimana gruppo 1 energie della settimana gruppo 1 energie della settimana c'è tantissimo mamma mia domani siamo ancora qua allora sì costruzione di grandi cose stabilità serenità armonia grandissima connessione spirituale abbiamo l'angelo abbiamo anche il tau qui potrebbe essere anche annunciazione buone nuove belle novità anche per alcuni di voi visto che è uscito l'asso di coppe anche proprio annunciazione di maternità o di nascita anche nascita di qualcosa nascita dicevamo prima di belle amicizie di Jane Venture di belle collaborazioni quindi il tutto veramente legato da grande spiritualità abbiamo anche il ciuccio quindi ancora una volta il richiamo alla nascita di qualcosa abbiamo addirittura anche la fede quindi per alcuni di voi potrebbero esserci anche matrimoni proposte di matrimonio proposte di fidanzamento insomma grandi grandi festeggiamenti qui abbiamo canta dal tuo cuore canta dal cuore quindi proprio lascia il tuo cuore parlare questa settimana c'è tanto divertimento c'è il plettro per alcuni di voi potrebbe esserci anche un viaggio in moto allora questa perla ogni tanto mi fa venire in mente qualche lacrima ma qua più che la lacrima mi fa venire in mente proprio il matrimonio quindi ancora una volta un riferimento al matrimonio abbiamo due O come lettere e una M ovviamente le lettere le le decifrate voi io non mi ci metto neanche più di tanto questa è la situazione dei chance ovviamente più torre e elefante che stanno proprio a indicare qualcosa di duraturo qualcosa di grande che state costruendo insieme a qualcuno o da soli però comunque qualcosa destinato veramente a durare nella vostra vita mi piace tantissimo il plettro se siete musicisti scrivetemi musicisti artisti musicisti in tournée artisti in tournée o anche solo persone che si dedicano ai media che viaggiano quindi vlogger persone che hanno a che fare con agenzie di viaggi o siti di viaggi insomma c'è anche questo tipo di energia però una settimana piena piena di grandi emozioni piena di magia piena di grandi connessioni con voi all'interno ma anche con l'esterno e comunque grande tanta carne al fuoco tanti progetti che prendono piede tante idee tante anche risoluzioni di cose proprio una bellissima energia una bellissima energia perché è un'energia produttiva grandissima energia produttiva bella 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 va bene gruppo 1 spero di esservi stata utile spero di avervi dato dei buoni consigli qua c'è una settimana con un'energia pazzesca quindi va andate spaccate tutto e fatemi sapere grazie per essere stati qua con me vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video ciao ok gruppo 2 se avete scelto questo bellissimo mazzo allora è un mazzo molto particolare io cercherò di ovviamente interpretare al meglio le carte che usciranno lo sto ancora studiando quindi insomma prendete con le pinze però io sento che questo mazzo lo devo utilizzare quindi gruppo 2 energie della settimana gruppo 2 energie della settimana gruppo 2 energie della settimana ok qui cosa abbiamo la dea degli scettri va bene se è destino che dovrà riuscire riuscirà ok ok ce le abbiamo allora energie della settimana per il gruppo 2 partiamo da lunedì e martedì è il mondo va bene che vedevo dire anche la scorsa volta c'era stata una stesa se vi ricordate che aveva iniziato proprio con il mondo io penso che se avete riscelto la stesa che inizia con il mondo siete proprio in uno stato di grazia uno stato di grazia dove le cose comunque stanno proseguendo molto bene per voi dove ogni settimana riuscite a portarvi a casa degli obiettivi molto interessanti molto importanti o comunque iniziate le settimane con questa vedete questa energia qua questo vortice adoro perché è proprio un'energia bellissima con cui iniziare la settimana perché è un'energia non solo costruttiva ma anche proprio con la voglia di connettersi a 360 gradi con la vostra vita cioè proprio con il vostro essere e con la vita che avete intorno a voi qui mi piace tantissimo poi questa carta perché come potete vedere non ha solo la donna ma ha una doppia figura proprio perché siete connessi a 360 gradi proprio con tutto quello che vi sta intorno ovviamente se avete un partner in particolar modo con il partner e con il partner o la partner c'è proprio questa conquista dell'universo questa conquista incredibile ripeto il mondo poi è la carta proprio della completezza del cerchio che si chiude qua c'è l'oro boros quindi io ci vedo proprio il fatto di riuscire a completare sempre qualcosa di portarvi sempre a casa qualcosa a fine settimana per poi cominciare la settimana con un nuovo ciclo un'energia rinnovata è bellissima questa cosa perché proprio siete avete un animo incredibile avete un animo proprio predisposto per fare grandi cose è incredibile questa questa energia vediamo le energie di mercoledì e giovedì la luna wow e niente anche qua abbiamo una grandissima connessione con voi stessi abbiamo una grandissima connessione con il vostro io interiore con tutti i vostri lati ombra con tutte le vostre peculiarità che in realtà sono peculiarità magari nascoste agli altri ma che voi state iniziando a tirare fuori e state iniziando anche a utilizzare utilizzare al meglio mi piace tantissimo il riferimento al ciclo lunare perché a questo punto qui abbiamo un riferimento temporale il ciclo lunare ci può indicare che entro il prossimo ciclo lunare potreste veramente portarvi a casa qualcosa di molto interessante qualcuno di voi potrebbe anche come che si dice risolvere situazioni connesse con il passato finalmente magari risolvere nodi carmici o anche appunto situazioni anche in questa vita passate che avevate bisogno di risolvere comunque c'è veramente una grandissima intesa tra voi e il vostro io interiore che appunto fa sì che in realtà possiate veramente ottenere tutto quello che che sentite che va bene per voi in questo periodo che ragazzi non è una cosa da poco perché essere consapevoli di ciò di cui si ha effettivamente bisogno non è una cosa scontata alcuni di voi appunto potrebbero risolvere situazioni passate che magari vi hanno tormentato vi hanno fatto male alcuni di voi potrebbero appunto finalmente fare luce su quello che è il prossimo futuro che riguarda il prossimo ciclo lunare grande connessione grande empatia sia con voi stessi sia con gli altri grande anche ricordi del passato che vi possono essere utili cioè situazioni del passato in cui avete avuto magari problemi e questa volta tra mercoledì e giovedì però dite no io mi ricordo di questa situazione che è andata così così cosa questa volta la faccio andare come dico io quindi c'è anche questo tipo di energia mamma mia questa è già una stesa che sto sudando perché due arcani maggiori potentissimi e molto interessanti quindi veramente c'è un'energia pazzesca su questo tavolo va bene vediamo come conclude la settimana questo gruppo 2 ok abbiamo le spade e abbiamo un 7 di spade sì qua c'è proprio io ci vedo proprio il fatto di avere delle situazioni cioè questa settimana vi si riproporranno delle situazioni che può essere che ci siano già state in passato di cui siete forse stati anche un po' vittime in passato questo giro cercherete invece di fare andare le cose diversamente io ci vedo proprio un altro tipo di energia ci vedo proprio il rilascio di cose negative per voi e la costruzione l'avanzamento di qualcosa che in realtà vi farà bene ci vedo proprio questo tipo di energia il 7 di spade a volte ci parla del voler arraffare forse più di quello che ma io qui non ci leggo assolutamente questo tipo di energia io qua ci vedo proprio una regolazione di conti un lascio andare quello che devo lasciare andare e mi prendo quello che devo prendere perché la mia vita sia migliore e queste due carte ci parlano esattamente di questo di raggiungere i vostri obiettivi pur sapendo quali sono sia i vostri difetti sia le vostre peculiarità e pur conoscendo il vostro background quindi ciò che vi quali sono i vostri tassi dolenti e quali sono i vostri punti di forza quindi questa settimana mi sembra un po' per questo gruppo 2 una regolazione di conti un sistemare tutta una serie di cose vediamo il consiglio della settimana per questo gruppo 2 quindi consiglio della settimana per il gruppo 2 consiglio della settimana per il gruppo 2 consiglio della settimana per il gruppo 2 uh il quarzo rosa è fantastico il quarzo rosa è la pietra dell'amore universale cioè guardate che meraviglia quindi io proprio qua ci vedo appunto il fare pace con tutta una serie di situazioni proprio per stare bene quando dicevo che siete proprio predisposti per la vostra serenità e la vostra armonia parlavo proprio di questo qua dice porta l'amore incondizionato con te si pacifico proprio la pace è la vostra scelta sarà la vostra scelta di questa settimana anche se potrebbe essere magari no ma potrebbero palesarsi magari conflitti o appunto situazioni passate che tornano voi proprio siete serafici pacifici sceglierete ciò che è meglio per voi e questo è proprio il consiglio della settimana scegliete ciò che è meglio per voi sappiate comunque che avete l'amore incondizionato con voi quindi non c'è veramente nessun diciamo non vale la pena ecco sprecarsi in situazioni che ciucciano le vostre energie senza darvi qualcosa di proficuo per voi per quella che è la vostra vita vediamo i vostri charms quindi gruppo 2 energie della settimana gruppo 2 energie della settimana gruppo 2 energie della settimana gruppo 2 c'è tantissimo abbiamo i segni d'acqua abbiamo l'abbondanza abbiamo tanto lavoro ma tanto tanto lavoro siete veramente assorbiti sul lavoro la zucca di halloween la zucca di halloween secondo me fa sempre un po' appello a tirare fuori i vostri lati un po' oscuri i vostri lati da stregoni e streghette abbiamo ben non una ma tre neanche non una non due ma tre pietre di luna d'altronde la luna era uscita ce l'abbiamo tra l'altro tre si rifà alla triade qui alla triplice dea quindi qua c'è proprio anche un tirare fuori un'energia se vogliamo femminile atavica di un certo spessore di un certo rilievo forse anche supporto dalla triplice dea a questo punto grandissima energia abbiamo qua bella è anche molto bella proprio anche sblocco sblocco di alcune situazioni sblocco di alcuni vostri lati interiori grandi emozioni comunque che abbiamo le emozioni ancora una volta la la zucca abbiamo la doppia zucca potreste essere una coppia che sblocca tutta una serie di lati magari lo fate insieme o è un percorso che state facendo con qualcuno magari non lo state facendo in solitaria abbiamo un re e abbiamo una s una k e una s non lo so viene in mente Stephen King ragazzi ma cioè vabbè anche no se state leggendo qualche libro di Stephen King fatemelo sapere ma ovviamente le lettere le lascio interpretare a voi comunque anche i charms ci danno grandi emozioni ma anche grande abbondanza come se effettivamente con un grandissimo cioè con il vostro impegno nello sbloccare determinate cose ovviamente con l'aiuto anche appunto della triplice idea visto che abbiamo la triade di pietre di luna e col vostro grandissimo lavoro personale anche fisico qua c'è tanta energia in realtà poi vi porterete a casa tantissimo c'è tantissimo qua va bene gruppo 2 fate brillare questo quarzo rosa l'amore universale intorno a voi e vedrete che questa settimana veramente raggiungerete vette proprio percorsi incredibili qua io ci vedo proprio percorsi spirituali pazzeschi gruppo 2 chiudo qua perché c'è un'energia incredibile su questo tavolo non so neanche se riesco a gestirla grazie per essere stati qua con me io vi auguro una settimana pazzesca ma qua le energie sono veramente incredibili fatemi sapere per favore cosa avrete ottenuto questa settimana perché io ci vedo anche tantissimo tantissimo da portarvi a casa proprio connessione col cosmo incredibile grazie per essere stati qua con me io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao ok gruppo 3 se avete scelto il mazzo di Lenormand allora vediamo le energie della vostra settimana vediamo le energie per il gruppo 3 quindi energie della settimana gruppo 3 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 ok energie di lunedì e martedì ui attenzione allora qui c'è proprio la voglia di chiudere dei cicli finire proprio con delle situazioni per voi debilitanti stressanti non buone insomma quindi c'è proprio la voglia di chiudere chiudere proprio qua c'è la barra addirittura c'è proprio la voglia di chiudere determinati cicli questa carta ci indica proprio un malessere personale non è detto però che sia ovviamente l'entità di questo malessere la conoscete voi però c'è qualcosa sicuramente che va risolto ed è qualcosa che risolverete appunto tra questo è lo spirito che va a chiudere tutta una serie di circostanze non buone per voi quindi c'è proprio l'energia di domani dopo domani di iniziare la settimana proprio chiudendo tutta una serie di conti chiudendo tutta una serie di situazioni che proprio non vi piacciono non vi fanno male non vanno bene per il percorso che state facendo che comunque volete fare quindi è un nove di pentacoli quindi comunque c'è un lavoro fisico c'è un lavoro di un certo tipo in realtà poi il nove di pentacoli nei tarocchi è una carta bellissima una carta di serenità di armonia quindi a me viene proprio da dire che andrete a chiudere tutta una serie di cose proprio tra domani e dopo domani cioè proprio immediata questa cosa proprio per non prolungare oltre determinate situazioni proprio per raggiungere questa agognata armonia e serenità alcuni di voi andranno a fare anche dei controlli visite visite di salute visite mediche ci saranno anche questo tipo di incombenze da portare a termine esami del sangue cose di questo tipo però appunto l'energia che io ho è che finiti questo lunedì e questo martedì poi appunto starete meglio proprio perché vi sarete levati un po' di quelle cose noiose che uno dice devo fare questo tipo di commissioni e non ce ne ho voglia quindi c'è proprio questo tipo di energia vediamo mercoledì e giovedì che cosa succede allora abbiamo un'energia femminile abbiamo un asso di spade quindi secondo me sarete molto più lucidi mentalmente sarete molto più presenti dopo aver appunto rinchiuso i vostri pensieri negativi in una scatola ovviamente si parla metaforicamente però appunto sarete molto più lucidi mentalmente e anche molto più presenti avrete anche voglia un po' più di non lo so mentre mi viene da dire per esempio quando io devo fare gli esami del sangue normalmente li faccio molto presto alla mattina e quindi vado senza trucco sfatta col maione della nonna eccetera eccetera e invece qua io ci vedo proprio anche la voglia di non dico di agghindarvi però insomma di magari alcuni di voi andranno dal parrucchiere faranno dei tagli nuovi magari compreranno cosmetici nuovi vestiti nuovi non lo so c'è questo tipo di mi viene un po' questo vezzo questo vezzo femminile che poi non è vero che sia solo femminile perché vestirsi bene può benissimo vestirsi bene anche un uomo o i due incidenti di male anzi io apprezzo le persone senza genere che hanno cura comunque di sé quindi c'è proprio la voglia di prendersi cura di sé è proprio un nuovo inizio un nuovo inizio appunto c'è la voglia di prendersi cura di sé di ricominciare di rivedere un po' quali sono le vostre priorità e portarle a termine per voi potrebbe esserci anche per alcuni di voi potrebbe esserci anche una figura femminile che effettivamente vi aiuta una madre una sorella un'amica una partner che proprio vi vi accompagna in questo mercoledì e giovedì di questa settimana facendovi sentire bene coccolandovi quindi c'è proprio questo tipo di energia vediamo come concluderà la settimana questo gruppo 3 fantastico il cavaliere il messaggero buone nuove abbiamo un sacco di cuori nove di coppe va bene niente buone nuove grande movimento grande voglia di raggiungere obiettivi grande voglia anche appunto di stare bene d'altronde avevamo qua il nove di pentacoli e finiamo con un nove di coppe il nove di coppe è proprio anche la soddisfazione la lussuria no la lussuria come si dice accontentata no sfogata quindi insomma molto bene proprio increscendo questa settimana partite lunedì e martedì dove in realtà ci saranno delle cose che non avrete voglia di fare per poi finire in verità molto bene molto bene con questa voglia di emozionarvi ed emozionare queste buone nuove che arrivano che sicuramente completano il quadro e direi che con questa combo con la figura femminile secondo me da mercoledì in poi avrete una settimana molto molto soddisfacente quindi bene mi fa molto piacere per questo gruppo 3 donne vediamo il consiglio della settimana per questo gruppo 3 mio figlio nel frattempo sta distruggendo casa va bene è uscita già una ce la teniamo che meraviglia questa pietra verde che cos'è abbiamo l'avventurina verde opportunità e fortuna sono lì per essere abbracciate per essere incontrate ora è il tempo d'altronde c'è questo cavaliere che mi parla proprio di questo tipo di energia abbiamo la prosperità abbiamo le emozioni abbiamo anche il bilanciare le emozioni ce l'avevamo qui fatto di liberarsi delle questioni negative delle situazioni negative proprio per andare in armonia e in in serenità quindi c'è proprio questo tipo di questa bellissima pietra che vi accompagna questa bellissima energia che vi accompagna proprio di fortuna prosperità però io sapete che non sono una c'è la fortuna ce la creiamo noi poi l'universo ci risponde e va bene ma proprio qui c'è il vostro movimento che va a creare abbiamo il verde qua quindi il vostro movimento che va a creare la vostra fortuna vediamo i vostri charms quindi vediamo i charms per gruppo 3 energie della settimana energie della settimana gruppo 3 energie della settimana gruppo 3 energie della settimana gruppo 3 allora va bene allora abbiamo numero 5 l'imperatore alcuni di voi dopo tanto tempo finalmente risolveranno questioni ataviche che andavano affrontate che andavano rivisse alcuni di voi potrebbero anche incontrare appunto un guru una persona qualcuno che vi aiuta nelle vostre problematiche quindi abbiamo qua questa figura femminile che effettivamente era uscita potrebbe essere l'incarnazione di questo 5 di questo numero 5 abbiamo anche alcuni di voi proprio trarranno un po' le fila del discorso le fila un po' della vostra vita cosa avete raggiunto finora e cosa invece volete ancora raggiungere io ci vedo proprio anche questo 9 di coppe che appunto ci parla di cosa volete raggiungere cosa volete andare a prendervi quindi molto bene abbiamo grandi emozioni emozioni sul lavoro anche riparazioni sul lavoro scusate riparazioni sul lavoro nel senso alcune cose sul lavoro che probabilmente non stavano andando come avreste voluto andranno a buon fine cioè risolverete risolverete alcune cose questo vi darà delle belle emozioni d'altronde le coppe erano uscite verso la fine c'è anche tanto divertimento la zucca è uscita tantissimo in queste stese io ci vedo proprio la connessione un po' con il vostro lato spirituale abbiamo tre lettere abbiamo una K non ci posso credere la S e la K erano uscite anche nella precedente stesa però qui abbiamo anche una N mi viene in mente snake che significa serpente in inglese e potrebbe essere anche proprio il voler cambiare pelle il rinnovarsi il rigenerarsi quando parlavo prima di un nuovo inizio verso mercoledì un inizio proprio vostro corporeo il cambiare pelle il cambiare determinate cose la voglia di rinascita per quello che riguarda il vostro corpo mente e spirito quindi anche questo è molto interessante però ovviamente le lettere poi le interpretate come meglio credete una settimana piuttosto movimentata nel senso che appunto domani dopo domani c'è questo grandissimo a tu per tu con quelle che sono situazioni non propriamente piacevoli però poi da mercoledì in poi ci saranno bellissime non solo novità ma proprio anche voi avete voglia proprio di rinascere e di raggiungere quelli che sono i vostri scopi i vostri obiettivi la fortuna è comunque dalla vostra abbiamo l'avventurina fortuna e abbondanza sono dalla vostra quindi state tranquilli che secondo me tutto si può risolvere tutto è risolvibile qui abbiamo addirittura anche divertimento belle emozioni risoluzioni di cose sul lavoro quindi insomma tante buone energie va bene gruppo 3 grazie per essere stati qua con me ovviamente vi auguro una settimana meravigliosa e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao